È stato necessario sospendere le attività didattiche per la scuola media di Capaccio Pestum a causa della positività riscontrata dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asera di Salerno di uno studente. Il plesso scolastico sarà sanificato nella giornata di oggi. La situazione nella città dei tempi riguardo i contagi sembra non arrestarsi. Nella serata di ieri, infatti, il report consueto dell'ente comunale segnala altre sei positività al Covid-19 facendo salire il numero dei cittadini positivi a 143. Nel contempo, però, ci sono state anche tre guarigioni.